E' veramente un'emozione di un territorio molto in difficoltà, 4 anni fa ero un candidato sindaco che nella piazza Orsini parlava a tante persone di speranza, ricordo l'ultimo comizio dove parlavo di speranza soprattutto ai ragazzi e dicevo che noi non dovevamo accettare il destino che sembrava disegnato per questo territorio, dovevamo rifiutare l'idea di un destino che stava mandando Montorio verso un declino, la ricostruzione Sisma 2009 non era partita, lo spopolamento, una città dove le strade, anche cose banali, i servizi dall'asilo nido alle scuole avevano dei problemi e quella sera io avevo chiesto a tutti i cittadini di scegliere con la loro forza di poter avere una speranza, una fede di cambiamento. All we dream is love alone, keep the laughter in your eyes, soon your long awaited prize, we'll forget about our sorrow and think about a brighter day, cos life is beautiful that way. We'll forget about our sorrow and think about a brighter day, cos life is beautiful that way. We'll forget about our sorrow and think about a brighter day, cos life is beautiful that way. Bene, un gradino alla volta si può ripartire, si può rinascere e si può essere proiettati verso il futuro. Oggi è così, il futuro ci vuole bene, forza Montorio, forza Bruzzo e veramente grazie, grazie, grazie. Doveteli questi 20 minuti di spettacolo unici in questi giorni che rappresentano la nascita della vita, come questa. Oggi rinasce una grande storia montoriese. Grazie e un abbraccio a tutti.